Buongiorno a tutti e benvenuti a Consulenza 2021 Digital, sono Giancarlo Fonseca responsabile della distribuzione di Lombardo Die e sono in compagnia di Andrea Illy, presidente di Illy Caffè e co-chair di Regenerative Society Foundation. Benvenuto e grazie per essere qui Andrea. Oggi apriamo un nuovo capitolo della storia della sostenibilità e della divulgazione del tema della sostenibilità perché parleremo del capitale naturale, spieghiamo che cos'è, ovviamente a chi ci ascolta il capitale naturale è una combinazione di risorse non rinnovabili tipo il terreno, il suolo, i sedimenti, i minerali, i combustibili fossili e di risorse naturali invece che sono rinnovabili come l'atmosfera, l'acqua, le specie, gli habitat e la combinazione di queste risorse servono nel nostro ecosistema e pensate pesano per il 50% del PIL globale, quindi bisogna averne cura, bisogna consentire non solo la preservazione di questo capitale naturale ma anche la rigenerazione dello stesso perché diversamente ne avremmo anche un danno dal punto di vista della generazione della ricchezza a livello globale. Però Andrea, tu e la tua famiglia rappresentate una eccellenza in Italia e a livello globale su come un'azienda può intraprendere un percorso di sostenibilità. Raccontaci la tua storia, la storia della tua famiglia. Beh, intanto grazie dei tuoi commenti e dell'invito. E quanto a noi è tutto un sogno, è il sogno di mio nonno che quando fondò l'azienda lo feci con questa idea di offrire il migliore caffè al mondo. Offrire ovviamente vuol dire di più, di produrre e vendere, è proprio il gesto dell'ospitalità e il migliore significa anche il come, non solamente il cosa. Quindi questa idea è proprio di fare un'azienda che oggi potresti chiamare una purpose driven company dopo la terminologia introdotta dalla business round table. Fatto sta che l'idea del perseguimento del benessere per tutti i portatori di interesse è nata con l'azienda stessa. Quindi il modello è quello della stakeholder company, il modello è quello di produrre benessere al di là del profitto, anzi il profitto è un mezzo. I portatori di interesse, gli stakeholder sono tutti quelli che hanno un interesse diretto e indiretto legato all'impresa, quindi c'è una gerarchia, il consumatore, i clienti, i collaboratori, i fornitori, le comunità e l'azionista che ha il servizio dell'impresa. Ecco con questo proiettando questa idea di benessere nel tempo viene da sé la logica della sostenibilità, perché noi non possiamo pensare di soddisfare i nostri bisogni compromettendo quelli delle generazioni future. E questo è un elemento che è venuto molto forte perché noi compriamo, dipendiamo dal punto di vista della materia prima dai paesi in via di sviluppo. Ecco c'è una disomogeneità, insomma una iniquità se vogliamo in qualche misura nella distribuzione della ricchezza nella filiera del caffè perché il 90% del valore aggiunto sta nei paesi consumatori e quelli che lo producono ne ricevono solo il 10% e spesso, dipendentemente dai prezzi che sono anche molto volatili, non è abbastanza per garantire né un futuro a lungo termine né anche capacità di sostenimento nel breve, perché il caffè è un'industria, diciamo un'agronomia, un'agricoltura di sussistenza. Ecco il motivo per cui abbiamo abbracciato con grande serietà la sostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale, la cosiddetta triple bottom line ed è un percorso che ormai dura da 30 anni e che ci ha visto anche oggi proprio usciamo con il comunicato stampa che siamo stati riconosciuti per la nona volta di seguito come una delle most ethical companies da Etisphere. Siamo nel frattempo diventati Benefit Corporation, insomma l'impegno è fattivo. Ecco definiscimi Benefit Corporation per i nostri ascolti. La Benefit Corporation è un istituto giuridico che permette di rendere statutario quella che è appunto il purpose dell'impresa. Noi ne abbiamo scelti tre, il primo è la sostenibilità della filiera del caffè dalla pianta alla tazzina, il secondo è l'economia circolare e il terzo è il benessere e la felicità dei portatori di interesse, ma la prima, quella della sostenibilità è la più importante ed è lì che si crea l'intercezione con il tema odierno del capitale naturale. Allora entriamo nel merito del capitale naturale, lo voglio fare proponendovi questo libro, non so se si vede, se potete inquadrarlo bene, Il capitalismo naturale, scritto da Amory Lowings e Hunter Lowings ed è interessante perché questo testo è alla base dei concetti di Green Economy e scrivono proprio questo, che il capitalismo naturale è profondamente differente dal capitalismo tradizionale. Quest'ultimo ha sempre trascurato il valore monetario delle risorse naturali e dei servizi forniti agli ecosistemi senza i quali, oltre che la vita stessa non sarebbe possibile alcuna attività economica. Il capitalismo naturale al contrario contabilizza le risorse e punta all'efficienza per riuscire a produrre di più con meno, esattamente come dicevi tu Andrea. Ridisegna le logiche industriali sulla base di un modello che esclude gli sprechi e la produzione di rifiuti, sposta l'economia verso un flusso continuo di valori e servizi, investe nella protezione e nell'espansione del capitale naturale esistente. Queste cose qui venivano scritte nel 1999, oggi siamo nel 2021 e ne parliamo come se fosse un tema di grande innovazione, in realtà c'è tanto lavoro accademico che è stato fatto nel passato, la scienza ha aiutato a studiare il fenomeno e ci ha fornito la base di conoscenze per poter trasformare il concetto di capitale naturale in un concetto di investimento. Però voglio il tuo punto di vista, raccontami che cos'è per te il capitale naturale? Il capitale naturale è all'origine della vita nel pianeta Terra, tutto ha inizio con la fotosintesi clorofiliana senza la quale non avremmo né ossigeno né la biomassa che dà, diciamo, nutre le catene alimentari. Tutto questo ha cominciato 3,7 miliardi di anni fa e quindi si è accumulato quel capitale naturale terreno, quindi sotto forma di suoli, foreste, ecosistemi terrestri, quelli acquatici, dei sistemi acquatici, in particolare dell'oceano e poi quello del sottosuolo. Inconsapevoli di questa nozione del capitale naturale, della sua preziosità, anche perché tutto sommato è talmente grande questo capitale naturale che nella attività umana ne consumiamo un infinitesimo di ordine superiore. Però in 150 anni, da quando è iniziata la cosiddetta era dell'antropocene, che è sostanzialmente con la rivoluzione industriale innescata dal consumo di combustibili fossili, ecco in questi 150 anni, se li paragonassimo a facendo un giorno i 3,7 miliardi, quei 150 sono 5 millisecondi. In 5 millisecondi, che è uno spazio risibile dell'ordine di un'esplosione nucleare, abbiamo deforestato credo 40% della superficie, diciamo, terrestre emersa, abbiamo perso circa il 30% della biodiversità, abbiamo causato un danno agli ecosistemi che poi si traduce non solamente nelle emissioni di gas serra e quindi nella crisi climatica del riscaldamento globale, ma anche poi in ecosistemi che hanno interrotto i cosiddetti cicli bio-geochimici, che sono responsabili, quelli del carbonio, quello dell'azoto, quello dell'acqua, che sono responsabili del mantenimento, con un processo omeostatico che mantiene sempre lo stesso livello, della composizione, diciamo, chimica dell'atmosfera, delle acque che consente la vita sul pianeta. Se non la smettiamo presto, questa roba qui si inceperà per sempre e il, diciamo, cambiamento climatico diventerà irreversibile e autoalimentato. Ecco perché la vera urgenza di fare marcia indietro. Quindi questo illuminato, brillante idea del Ministero per la transizione ecologica significa fare due cose. Primo, stoppare immediatamente quanto prima qualsiasi emissione di gas serra. Secondo, rifissare tanto di quell'eccessivo carbonio, diciamo, che si è riversato nell'aria sotto forma solida, biomassa. Questo si fa rigenerando quella parte di capitale naturale attraverso la fotosintesi clorofiliana, che non avviene solo nelle foreste e nei campi, ma anche nell'acqua, e mettendo in moto quella, diciamo, produzione maggiore ai consumi di capitale naturale, che poi darà luogo anche a un ripristino, diciamo, del capitale, diciamo, fossile, che è quello che stiamo continuando a bruciare. Hai citato questo nuovo Ministero, ma anche Draghi, al Senato, ha parlato di una legge del 2015 sul capitale naturale. Quindi abbiamo una legge in Italia da sei anni, anzi dicembre del 2015, quindi poco più di cinque anni, ma non se n'è fatto nulla. Non se n'era fatta nulla finora, però Draghi ha detto giustamente nel suo intervento al Senato per la fiducia, utilizzeremo quella legge lì, posto che c'è. Quindi si tratta adesso di, con qualche milionesimo di secondo di ritardo, diciamo, di metterla in pratica e utilizzarla adeguatamente. Quindi è una legge comprensiva, diciamo, con un approccio listico che include tutto e penso che si potrà beneficiare del lavoro svolto in passato e poi non attuato. Ecco, l'anno scorso dicevamo ai nostri clienti, guardate, il 2021 sarà l'anno dell'economia circolare, della biodiversità, perché entra in azione il next generation, ma quello che è avvenuto in Italia è, direi, un'ulteriore spinta verso il raggiungimento di questi obiettivi. Tu sei positivo da questo punto di vista? Qual è la tua percezione? Tu hai parlato di biodiversità giustamente, perché il motore dell'accumulo di produzione di capitale naturale è la biodiversità, perché la biodiversità non solamente permette la produzione di maggiore biomassa, ma crea sostanzialmente un approccio olistico in cui una specie protegge all'altra. In agricoltura, noi, per fare un esempio calzante, che è quello che è stato studiato di più e che mi compete, con la rivoluzione verde che ha consentito di sfamare più di 6 miliardi di cittadini rispetto a quella che era la capacità produttiva dell'agricoltura prima che la rivoluzione verde nascesse. Però è basata sulla monocultura, è basata sulla monocultura e la monocultura crea innanzitutto una perdita di biodiversità, la perdita di biodiversità sia della parte, diciamo, vegetale che della parte del sottosuolo. La biodiversità vuol dire perdere le difese naturali dei terreni, perdere le difese naturali dei terreni vuol dire dover aggiungere difese sotto forma di chimica. Ecco che gradualmente noi che cosa abbiamo fatto? Aggiungendo ai terreni costantemente arrati fertilizzanti minerali che sono responsabili delle emissioni di uno dei più potenti gas a serra che si chiama il protossido di azoto, aggiungendo per di più pesticidi e abicidi, abbiamo creato un suolo che sostanzialmente da un terreno fertile è diventato una specie di supporto fisico per tenere delle piante tenute assieme con la chimica. Ecco, questo ha fatto sì che l'agricoltura da potenzialmente carbon negative, che potrebbe essere, è diventata responsabile di circa 25% delle emissioni di gas a serra. Nota bene che poi bisogna fare i conti, buona parte di questo è l'energia consumata, quindi quando faremo la transizione energetica risolveremo buona parte del problema, un'altra parte è l'utilizzo dei suoli che viene prevalentemente utilizzata per l'allevamento e quindi consumo purtroppo eccessivo di carne eccetera, non voglio demonizzare, però un'agricoltura non convenzionale che quindi sia basata come ai vecchi tempi se vogliamo sull'arricchimento dei suoli con la biomassa, con la fertilizzazione eccetera, ti permette di sequestrare, fissare carbonio a partire del suolo che ha una capacità tre volte superiore all'atmosfera di fissare carbonio, quindi tu facendo un'agricoltura buona anche per la salute umana oltre che per l'ambiente, sequestri contemporaneamente carbonio diciamo dall'atmosfera. Ecco questo genere di approccio qui è fondamentale, quindi capitale naturale vuol dire biodiversità, tu quando arricchisci il suolo con carbonio nutri la biodiversità del suolo che è responsabile della cosiddetta parola magica resilienza dell'agricoltura, perché questi milioni, miliardi di microorganismi, il cosiddetto microbiota del suolo come ce ne abbiamo uno noi nel nostro corpo umano, questo microbiota è responsabile della salute del suolo e della pianta e quindi essendo in salute non ha bisogno di difesa aggiunte diciamo con i prodotti chimici dell'industria. Così altro, estendendo il concetto alla agroecologia, avere un rapporto che sia sostenibile tra quelli che sono gli ettari piantati in agricoltura e gli ettari invece lasciati a riserve naturali dove invece la biodiversità esplode ai massimi livelli. Quindi io credo che la grande opportunità per avere una strategia sul recupero, la conservazione e la rigenerazione del capitale naturale passi innanzitutto attraverso l'agricoltura rigenerativa e poi attraverso la riforestazione e il recupero anche di zone degradate, non necessariamente solo con la riforestazione ma ci sono milioni e milioni di ettari abbandonati, inquinati, fossilizzati che possono venire ridiventare delle vere e proprie oasi per questo mitico capitale naturale. Grazie, grazie Andrea, stai dicendo delle cose importanti per noi perché noi vogliamo con il natural capital investire proprio nelle aziende che hanno questo tipo di impegno, di modello di business e di obiettivi da raggiungere. Poi c'è un tema inevitabilmente demografico, la popolazione negli ultimi 50 anni è raddoppiata, il pianeta è sempre quello, quindi bisogna produrre di più con meno e per fare questo ci vuole tecnologia, quindi abbiamo anche quest'altra leva da dover utilizzare e nel discorso di Draghi c'è anche questo obiettivo molto forte per il nostro paese. Un'altra domanda per te, tu spesso dici, ti ho seguito in varie interviste che ti hanno fatto che non c'è qualità senza sostenibilità, spiegaci un po' questo concetto. Sì, infatti io quando parlo del nostro prodotto parlo di qualità sostenibile, nel senso che, posto che la qualità non è solamente del gusto ma è anche nutrizionale e anche ambientale, laddove applico delle pratiche agronomiche non sostenibili ho una ricorduta sulla qualità del prodotto, quindi le due cose sono due facce della stessa medaglia, quindi semplicemente questa azione mi porta a questo risultato, questa azione non sostenibile mi porta a un risultato di minore qualità sul prodotto che metto in commercio. Parliamo di aspetto finanziario, come sta impattando questo sul valore della tua azienda e sui risultati finanziari della tua azienda. Ma senti, il valore dell'azienda è calcolata ormai in modo standard con il cosiddetto enterprise value, il discounted cash flow, quindi io prendo il flusso di cassa dell'azienda negli anni e lo sconto con il costo medio ponderato del capitale. Questo costo medio ponderato del capitale è tanto più alto quanto più alto è il rischio dell'impresa, quindi io a parità di flussi di cassa posso avere un'impresa che vale di meno semplicemente perché è più rischiosa. Ecco, quindi un'azienda sostenibile, come noi cerchiamo di essere più possibile, comporta meno, in inglese si chiamano liability, cioè diciamo colpe di cui tu devi poi rendere conto e pagare. La stessa legge che tu menzionavi sul capitale naturale, è potenzialmente retroattiva, cioè nel senso che va a analizzare l'impatto sull'ambiente di politiche del governo anche degli anni passati. Questa logica qui di pagare il costo dei danni ambientali da te cagionati anche degli anni passati sarà un incubo per le imprese, per i mercati finanziari e per gli uffici legali nei prossimi anni sempre di più, perché la nostra economia durante gli anni dell'antropocene, di questa era che chiamiamo estrattiva che abbiamo utilizzato, non ha mai pagato il costo ambientale. Esatto. E lo stesso combustibile fossile che noi consumiamo non paga la tassa, diciamo, che dovrebbe pagare per il danno ambientale, mentre invece, e questo se tu gliela facessi pagare, immediatamente avresti una convenienza economica ad andare su risorse rinnovabili. Come diceva Mario Lovins, c'è valore monetario. Alla fin fine se fai i conti giusti il valore d'impresa è molto più alto per l'impresa sostenibile. Lo dimostra l'interesse del mondo finanziario, perché, e non è un caso, che la finanza adesso stia diventando molto, diciamo, interessata e stia proprio cavalcando questa... Beh, il nostro incubo peggiore è ritrovarci nei portafogli dei nostri fondi aziende che sono destinate a morire perché non stanno facendo transizione verso obiettivi di sostenibilità, quindi quello è il nostro incubo peggiore. Senti, raccontami un po' invece di Regenerative Society Foundation, sei co-chair di questa organizzazione, qual è il ruolo che volete avere in Italia e a livello internazionale e che risultati state già ottenendo? Allora, un gruppo di imprenditori illuminati, pionieri, sono stati Davide Bollati e la Maria Paola Chiesi. Mi hanno coinvolto in questa idea della Regeneration 2030 in occasione di Parma, capitale della cultura 2021. E da lì è partita l'idea di fare una fondazione che sviluppasse il programma appunto Regeneration 2030. Quindi ci siamo detti, guarda, per fare le cose di cui abbiamo parlato fino ad oggi, quello che è la transizione energetica da combustibili, diciamo fossili che mettono gas serra a un combustibile rinnovabile, è un prerequisito, irrinunciabile, però è sostanzialmente una cosa che chi si occupa di investimenti di lungo termine da già per fatta, nel senso che c'è scienza e tecnologia che dovrebbero appunto da qui al 2050 a zerare queste emissioni del carbone. Rimane l'enorme lavoro da fare sul capitale naturale, ossia intanzitutto prevenire ulteriori danni agli ecosistemi che abbiamo menzionato e secondo cercare di rigenerare, perché questa è la buona notizia, quanto più possibile del capitale naturale che è stato deteriorato nel secolo e mezzo scorso. Ed è così che è nata questa idea, ci siamo quindi focalizzati sull'idea di rigenerazione che si applica specificamente ai sistemi biologici, dal microorganismo fino ai sistemi biologici complessi come le grandi popolazioni mondiali. Ci siamo dati una roadmap, facciamo prima quella che menzionavo, l'agricoltura rigenerativa, poi l'utilizzo del suolo, poi la rigenerazione dei sistemi acquatici, poi la rigenerazione urbana e fino anche ad arrivare alla fine a riuscire a proporre un modello di industria rigenerativa che valga non solamente per quell'industria che consuma risorse rigenerabili, come il mio chicco di caffè che ogni anno ricresce, quindi non c'è un tema di… ma anche per quella industria che invece consuma risorse minerali che invece deve inventarsi un modo per essere oltre che circolare, riciclando quanto più possibile queste risorse minerali, anche essere rigenerativa per l'impatto che ha sugli ecosistemi in cui vive. Quindi questo è il nostro piano e la strategia per essere sostenibile, per essere una strategia che è quella di fare sostanzialmente un brokeraggio, cioè cercare di far incontrare la richiesta di progetti, project proposal qualificati, quindi validati da un comitato scientifico perché la vera essenza di questa fondazione sarà la conoscenza scientifica sulla rigenerazione e proporre quindi questi progetti che sono stati validati da un autorevole comitato scientifico alla comunità finanziaria affinché la finanza sostenibile finanzi questi progetti. Questo è quello che noi ci prefigiamo di fare, di prendere proprio un impegno forte e siamo in ottima compagnia perché il nostro chairman assieme a me è Jeffrey Sachs, quindi avremo un impegno istituzionale molto forte, cercheremo di sostenere innanzitutto i progetti istituzionali legati agli accordi di Parigi sul clima, piuttosto che legati ai sustainable development goals, piuttosto che agli impegni sulla biodiversità, eccetera, ma auspichiamo diciamo che in questi dieci anni di poter inescare veramente un movimento sulla rigenerazione. Ecco, adesso che abbiamo un ministero sulla transizione ecologica guidata da Cingolani che è una professionista che sa la materia in maniera estremamente profonda, direi che avete un supporto ancora maggiore. Sì, Roberto Cingolani è un grande esperto, tra l'altro ho il privilegio di averlo oltre che amico come consigliere di amministrazione fino a quando è entrato nel governo e quindi sono anni che collaboriamo a questi temi e gli faccio le telefonate di domenica per chiarirmi le idee, se questo concetto è giusto, sbagliato, eccetera, e quindi spero che avremo l'occasione di continuare a collaborare e poter essere un suo specie di suggeritore anche durante il suo impegno ministeriale. Bene, bene. Senti, noi qui abbiamo, le persone che ci stanno seguendo sono consulenti finanziari, sono prova banker, gestiscono i patrimoni delle famiglie italiane, spesso fa riferimento questo patrimonio ad un imprenditore, quindi vorrei da te una call to action, cioè un messaggio per i consulenti e tramite loro agli imprenditori che gestiscono in merito all'importanza della transizione verso la sostenibilità. La call to action l'avevamo concepita nella Regenerative Society Foundation con hashtag start regenerating now. La morsa nella quale si trovano le imprese in questo percorso di transizione ecologica stringerà sempre di più fino a stritolarle, quindi non si può rimandare, bisogna affrontare l'enorme opportunità che rappresenta dal punto di vista dello sviluppo economico questa strategia, peraltro sulla quale l'Unione Europea si è riscattata, si è rinata veramente, perché si è data un ruolo politico che prima non aveva, prendendo una leadership mondiale rispetto alla gara al green che si instaura. E' già in piedi una gara straordinaria tra Europa, Stati Uniti e Cina, su chi diventerà più verde per primo e con quali investimenti e con quali leadership tecnologica. Questa è una rinascita, questa è una transizione da un'era, che è quella dell'antropocene, verso appunto estrattiva e verso una nuova era rigenerativa, che ci permetterà di raggiungere anche una maggiore armonia proprio con il mondo, con il cosmo, con il pianeta. Ecco, questo va fatto da subito ed è un grandissimo business, perché se pensi, commentavo proprio ieri, una delle poche cose che ha funzionato veramente bene negli ultimi anni è stata l'industria 4.0, sono stati allocati dei soldi, sono stati investiti, sono stati spesi bene e hanno prodotto dei risultati sotto forma di crescita economica delle esportazioni. adesso basta fare una industria green dopo 4.0 e credo che mobilizzerà una montagna di investimenti. Tu pensa nel mio ottimismo che l'Italia, quando è uscita a pezzi della seconda guerra mondiale, con un leader e con i soldi del piano Marshall, che erano metà di quelli che noi riceviamo adesso come fondo perduto degli 80 miliardi dall'Unione Europea. Si ricreano le stesse condizioni, un leader e soldi che sono tanti o pochi che siano da spendere per dare l'innesco alla rinascita di un paese che è oggettivamente uscito veramente malconcio, non solamente dal Covid ma anche da tutto ciò che aveva preceduto. Quindi ho un grande ottimismo e il fatto che questo sia basato su questa nuova visione del mondo, del futuro, del capitale naturale e della zero emissioni è molto positivo. Andrea grazie per il tuo contributo, adesso noi ci scambiamo di ruolo, nel senso che tu intervisterai me, ma prima di iniziare guardiamoci questo video tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. moment to act, to metamorphose, to rethink everything, reset and rebuild a more resilient economic model and transition to one that's circular, lean, inclusive and clean. We call this Click. There's no going back to business as usual. Now is the time to build back better and it is our responsibility on behalf of our clients to act upon it. Rethink sustainability. Rethink investment. Rethink everything. Lombard Odier. Allora, sono tutto tuo. Siamo definitivamente ormai, credo, entrati nel mondo, nell'era della green finance, dell'impact investment, della finanza rigenerativa eccetera. Come stanno andando le cose? Intanto perché siamo entrati in questo mondo e come stanno procedendo, a che velocità e con quali direttrici questa finanza verde? Ma sul perché la risposta è un combinato di diversi fattori. Credo che il principale fattore sia emotivo. Almeno lo metto al primo posto perché certamente la pandemia ha portato le comunità a essere molto sensibili sul rapporto tra l'uomo e la natura. E poi c'è un aspetto che la comunità scientifica ha portato evidenze talmente forti su quelli che possono essere i danni di un continuo ritardo nella transizione verso la sostenibilità che le persone hanno capito che è la nostra generazione quella che dovrà accelerare sul cambiamento perché diversamente saranno i nostri figli e i nostri nipoti a dover pagare il prezzo della nostra negligenza da questo punto di vista. Quindi io vedo un fattore di avvicinamento al rischio che sta creando forte interesse e forte attenzione rispetto a queste dinamiche. Poi c'è tutto il movimento legato ai policymakers. È evidente che dal 2015 con COP21 qualcosa è cambiato. C'è stata poi anche l'enciclica del Papa l'ha dato sì. Sono arrivati i Sustainable Goals. C'è stato poi tutto il movimento europeo sulla Green Economy e sul Green Deal prima e sul next generation dopo. Adesso aspettiamo gli Stati Uniti, sappiamo che anche la Cina si è assunta degli impegni, quindi i regulator stanno dando un'impronta molto forte al cambiamento. Ci sono i consumatori che sempre di più non vogliono comprare prodotti di aziende che non dimostrano materialmente di voler trasformare il proprio modello di business. Quindi si stanno assommando tutta una serie di fattori che stanno spingendo in maniera molto forte. E i cambiamenti regolamentari stanno impattando anche il nostro business, quello della finanza. Ad esempio in Europa quello che accadrà il 10 di marzo di quest'anno sarà che tutte le società di gestione dovranno diciamo dichiarare se gli investimenti che propongono al mercato sono investimenti che integrano modelli di analisi di sostenibilità o hanno come obiettivo la generazione di un impatto positivo. E quindi anche noi siamo nell'urgenza di dover spiegare sempre meglio all'investitore finale cosa sta comprando e quindi non solo le finalità finanziarie che per noi restano la generazione di un extra rendimento. Diversamente non siamo sostenibili noi ma anche l'impatto su una serie di metriche legate alla sostenibilità. E la velocità di questo cambiamento è pazzesca. Te lo raccontavo qualche giorno fa che solo 5 anni fa quando si parlava di investimenti ISG o di sostenibilità c'era ancora molta perplessità. Quindi non andrei indietro di 20 anni. Ancora 5 anni fa c'era questa perplessità poi improvvisamente tutto è cambiato in maniera radicale. Benissimo. Quindi è promettente. Tu hai menzionato il reporting, insomma anche la spiegazione ai risparmiatori, investitori. Come siamo sul tema della misurazione dell'impatto e dei rendimenti che questo genera? Perché ci sono tre componenti, quella economica, quella sociale e quella ambientale. Come siamo così a livello di indicatori? Allora Andrea, sono due temi fondamentali. Poter misurare e riportare i dati. È fondamentale misurare le azioni che vengono intraprese. Quindi abbiamo bisogno di una serie di indicatori legati al consumo d'acqua, a emissioni di CO2, alle azioni che stanno intraprendendo le aziende per raggiungere determinati risultati che possano far comprendere a chi le compra che sta comprando la cosa giusta. E sono in corso tanta analisi, tanta attività di innovazione su questi indicatori. Noi come società di gestione abbiamo siglato un accordo con l'Università di Oxford per avere un supporto, da questo punto di vista, un supporto scientifico e accademico su questo perché diversamente rischiamo di non cogliere appieno i rischi che sono all'interno di un comportamento di impresa. E recentemente, anche grazie all'Università di Oxford, abbiamo realizzato un software che ci consente di calcolare la traiettoria climatica di un'azienda rispetto agli obiettivi di Parigi del 2015, quindi capire se i comportamenti di oggi di questa azienda e i piani di sviluppo che ha produrranno più o meno aumento della temperatura al 2100. Sapete che abbiamo un obiettivo di rimanere nell'ordine di un aumento di un grado e mezzo, oggi noi siamo in grado di calcolare se i comportamenti portano a più due, più tre, oggi noi siamo posizionati sopra tre in generale se guardo l'MCI World oppure se sono comportamenti virtuosi che vanno verso il grado e mezzo. Ecco questo tool che è assolutamente innovativo sul mercato e serve a noi per compiere le scelte migliori e quindi per evitare di ritrovarci in portafoglio con un cerino in mano letteralmente ma serve anche all'investitore perché poi il nostro obiettivo è riportare tutti gli anni non solo i risultati finanziari dell'operazione di investimento che l'investitore ha fatto ma anche tutti i risultati dal punto di vista ambientale. Sui temi sociali c'è ancora molto lavoro da fare, devo dirti la verità che dal punto di vista dell'analisi scientifica è ancora complicato comprendere quanto l'attenzione ad aspetti sociali generi un extra rendimento sull'azienda, però ci stiamo lavorando e devo dire che è uno dei nostri prossimi obiettivi. Ho capito. Inclusività e disuguaglianze. Speriamo un giorno di poter avere anche un PIL depurato da tutte le attività non sostenibili o che distruggono il capitale naturale. In qualche modo investire nella transizione climatica e investire nel capitale naturale visto che poi uno dei temi è anche quello dell'agricoltura che coinvolge tanta popolazione che lavora su questo settore genera degli impatti anche dal punto di vista del tema dell'inclusività, dobbiamo essere più bravi e più precisi nel calcolare esattamente il risultato perché uno dei problemi quando si parla di sostenibilità è che soprattutto oggi che è diventato un tema di larghissima diffusione e evitare forme di greenwashing o social washing. E per farlo tu devi solo studiare, cioè devi cercare di produrre un'analisi quanto più profonda possibile per evitare di leggere male delle informazioni. Benissimo. Abbiamo visto insomma che questa finanza sostenibile si divide in due grandi ambiti, quello della transizione energetica e quella del capitale naturale, della rigenerazione e conservazione del capitale naturale che peraltro ha delle ricadute oltre che sul clima anche sull'uomo perché c'è una correlazione lineare tra la sostenibilità delle città e la qualità della vita in termini di salute, in termini di criminalità, in termini proprio di benessere assoluto. Ecco, fatto cento questa economia, questa finanza verde, quanto è allocato sulla parte di energy transition e quanto è allocato invece sulla parte del capitale naturale? Allora, diciamo che oggi la gran parte degli strumenti che, strumenti ISG o strumenti di investimento sostenibile sono focalizzati sul tema del climate transition perché il tema fino ad oggi più dibattuto e su cui si è percepito immediatamente il rischio di prossimità di un punto di non ritorno, ne parlavamo prima e quindi c'è un forte focus su questo e il tema degli investimenti in biodiversità, economia circolare, riciclo dei rifiuti, utilizzo efficiente delle risorse naturali, dell'acqua è un tema dal punto di vista dell'investimento più recente, più nuovo, ma sul quale è necessario fare un'accelerazione proprio per le cose che dicevi tu, ossia hanno un impatto anche sul tema del climate transition oltre che avere un impatto sulla qualità dello sviluppo dell'economia e delle società. Sì, il paradigma, il cambiamento di paradigma della riservazione, conservazione a rigenerazione implica anche reinventare veri e propri modelli di business perché se vogliamo raggiungere questo risultato di avere le imprese che non contribuiscono all'aumento della temperatura al di là di quello che è stato predeterminato, bisognerà cambiare modelli di business. Ecco, secondo te a che punto siamo dal punto di vista delle aziende proprio sull'investimento in innovazione per la transizione ecologica. Allora, noi in questo momento se guardo al mercato, oggi il mercato sta valutando un investimento sostenibile utilizzando degli score che chiamiamo ESG, Environmental, Social and Governance, che sono degli score, quindi attribuiscono un punteggio e stabiliscono poi delle scelte di sovrappeso, di sottopeso di un titolo all'interno di un fondo. Dicevi bene tu, il problema della transizione verso un nuovo paradigma riguarda i modelli di business, non riguarda il punteggio di quello che fai oggi, perché oggi potresti avere delle pratiche ESG buone, positive, però il modello di business della tua impresa è sfidata dalle norme e dai consumatori e dagli investitori che vogliono vederci sempre più chiaro. Quindi bisogna guardare i modelli di business, bisogna andare a scovare quelle aziende che stanno facendo nella maniera più efficiente possibile questa transizione. Ora, a livello globale, nel mondo del large cap noi abbiamo delle eccellenze, aziende che stanno supportando i sistemi industriali verso questa transizione, in particolare in alcuni settori, nella tecnologia, della digitalizzazione, ma anche delle infrastrutture. Nel mondo delle small mic cap troviamo molta più innovazione in questo momento, tant'è che la nostra strategia natural capital insiste su quel tipo di capitalizzazione e poi tanto lavoro deve essere affidato al mondo del private equity. Il private equity oggi secondo me riveste un ruolo fondamentale di scouting delle prossime opportunità che noi in mondo capital markets dovremmo cogliere nei prossimi 5-10 anni, ma se il private equity non inizia a finanziare in maniera forte e importante le aziende che oggi non sono quotate ma che vogliono portare innovazione verso un nuovo paradigma e a un certo punto la macchina dell'investimento arriverà a capacity. Quindi il private equity è una grande risorsa. Noi oggi possiamo costruire dei portafogli efficienti, dei portafogli che riescono a raggiungere quell'obiettivo, ma ci aspettiamo nuove società sui mercati. Quindi questa spinta di Larry Fink è benefica per tutto il mercato? Assolutamente sì. Senti, in questa complessità gigantesca di cui abbiamo parlato, in cui gli stakeholders sono i consumatori, i regulator, la comunità finanziaria, le imprese e le filiere distributive, si riesce a raggiungere la massa critica per poi sfondare e fare una transizione verso si dice che l'innovazione è la forza distruttrice perché distrugge il passato per creare il futuro. Però la sfida è oggettivamente importante. Interessa l'SDG 17 che inserisce il principio della partnership pubblico-privata proprio per favorire la transizione verso la sostenibilità. Vorrei sentire cosa ne pensi, ma soprattutto, quel che mi interessa di più, è se il mondo dei capitali, della finanza, può agevolare questa partnership pubblico-privata tra il mondo dell'industria e dei servizi e quella degli stati. Beh, assolutamente sì. Prima ti parlavo di partnership con l'Università di Oxford, fondamentale per studiare meglio la materia. C'è una partnership che stiamo facendo anche come società di gestione per poter mettere insieme le nostre capacità di sviluppo, di soluzioni di investimento. Noi facciamo parte della Global Sustainable Market Initiatives, facciamo parte di un'altra alleanza che riguarda la Bia Circular Economy e il Natural Capital Investment. Quindi ci sono tantissimi movimenti che si stanno formando in questo momento. Per esempio, la recente partnership che abbiamo fatto anche con il supporto del Principe Carlo di Inghilterra ha l'obiettivo di raccogliere entro fine del 2022 10 miliardi di dollari da indirizzare ad aziende che stanno facendo una transizione del modello di business a favore di un'economia circolare e rigenerativa. Quindi assolutamente quella è la strada, quella di mettere insieme il pensiero, mettere insieme le forze d'azione, mettere insieme anche la politica. Quindi le sponde che si stanno formando in questo momento a livello europeo, ma anche a livello globale sono l'energia che ci dà la certezza che possiamo raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. La finanza è un acceleratore, spostiamo capitali e li vogliamo spostare dove c'è valore e secondo noi c'è valore nelle aziende sostenibili, quelle sul Climate Transition e quelle sul Natural Cup. Benissimo, io ti ringrazio. Noi abbiamo quasi saurito il nostro tempo, Andrea. Stavo per ridarti la parola perché il nostro ruolo si inverte di nuovo e ti ringrazio. Io ti ringrazio moltissimo e salutiamo i nostri consulenti finanziari con un bellissimo video su Salgado che tu gentilmente ci hai offerto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.